Sì signori, quello è un cane così di lusso che non riesco a trovargli un padrone. So che laggiù abita un tale che ne cerca uno. Ah, quel famoso scrittore. Ma non andarci, è un tipo così irrascibile. Storie, vado a prendere il cane, appena lo vedranno e butterà le braccia al collo. Ma va va! Io non discuto, scommetto, scommettiamo una cena? Io ci sto. Anch'io. Io pure. Buongiorno, mi hanno detto che lei cerca un magnifico esemplare di cane toiterie. Cane? Cane? Non cerco nessun cane io e non ho tempo da perdere con gli scherzi. Scusi, è lei che vuole comprare un cane toiterie? Cane? Che cosa significa tutto questo? Non voglio nessun cane! Senta, per quel cane come... Buongiorno, guardi che superbo esemplare di cane toiterie. Basta! Nemico degli animali!